Dopo il pareggio amaro rimediato contro il Monopoli e quel secondo posto sfumato, l'Avellino torna ad allenarsi in vista della gara di domenica pomeriggio contro il Potenza. Mister Braia si godrà il neo arrivato Murano, subito messesi a disposizione il tecnico, comprendendo quale migliore utilizzo fare del calciatore. Le attenzioni al momento sono tutte concentrate sul possibile cambio di modulo che il tecnico toscano dovrebbe applicare per utilizzare la nuova coppia offensiva. Possibile quindi un passaggio a un 4-4-2 offensivo con due centrocampisti esterni che fungono da ali, in modo tale da supportare la possibile coppia Murano-Maniero. L'indizio, oltre alle parole del tecnico in Mixed Zone, risiederebbe anche nella possibile partenza di Andrea Sbraga, cercato dalla Turris con la quale avrebbe già trovato un accordo e trasferirsi già in questa sessione. Una partenza che implicherebbe la perdita di un uomo nelle retrovie per schierare con costanza la difesa a tre. Al tempo stesso, in difesa per la prossima gara, torna a disposizione il tecnico Luigi Silvestri, assente la scorsa partita per squalifica. Recuperato anche Vincenzo Plescia, che dopo la negativizzazione avvenuta nel weekend, torna ad allenarsi a pieno regime con Gennaro Scognamiglio e Daniele Mignanelli. Braia ha adesso a disposizione tutto il gruppo squadra in vista di questa settimana, dato l'esito negativo di tutti i tamponi effettuati. Intanto a potenza nelle ultime 24 ore c'è stato l'esoner di Bruno Trocini. Il tecnico è stato esonerato dopo la sconfitta per 3-1 a Viterbo nella sfida salvezza contro i Monterosi. La guida tecnica è stata affidata a Pasquale Arleo. Per lui si tratta di un ritorno sulla panchina dei Lucani. L'Avellino non dovrà pensare di avere vita facile contro la formazione lucana, anche perché, dati alla mano, i bianco-verdi hanno ottenuto solo due punti contro le squadre che hanno cambiato guida tecnica.